Perfetto, ciao a tutti ragazzi e bentornati su Unirnale, io sono Angel3Dot3, oggi siamo Con un gioco basato da un anime, l'attacco dei giganti, direi di provarlo, single player, normal, hard, abnormal, normal, ok qui, non tengo questo, prendiamo Eren, esempio principale, start, figo, è fatto bellissimo Oddio, uso Spider-Man, che figo, grazie, una figata, se avete visto l'anime, è fatto veramente bene Tagliare le braccia Aia, mi hanno decapitato Ritorniamo Torniamo quelli più piccoli, i giganti più Aia Ok, stiamo facendo schifo Aiuto Ah ah, piscio Non mi prendi, non mi prendi Sì E adesso, alle spalle Cazzo Non mi sbilanzio Aiuto, il fatto che venivano pure messaggi Malediziano Tutti sotto Sì, nel collo E uno l'abbiamo battuto Grandi ragazzi, ce l'abbiamo fatta Ce l'abbiamo fatta, no, in bocca Adesso, molto attenti Se ci becca, si fa il culo Aia, aia Come ha fatto a mangiarli? Non è possibile Dove è Dove è capire Aspetta, se ti perli Che cazzo Non posso capire, dà, sì Aiuto No, sì Non so Non so Non vedo più neanche il personaggio Ah, ma come ha fatto C'era un muro Possibile Spariamo Spariamo i fili I fili che ci appendono Sali, sal, sal L'acconciatura di capelli Sostendiamo il taglio Sì, l'ho beccato Perché non è morto Allora Lo scopo è Colpirli alle spalle Alla nuva Solo così possono morire I I titani qua I giganti I stronzi Ok Sono morto sulla sua testa Spiacicato Questo Lo faccio fuori Sii Lo ha ciecato Che fa Si butta di pancia Mi taglia il pisello A quest'altro Muori Sei giù Zazza Via, 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 via Ho ucciso Ho ucciso Aiuto, aiuto Sono in due Non è valido però Puoi già essere grossi Ce la posso fare? Ce la posso fare? Nel culo Maledizia All'attacco Tantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantant Ok Fine Questo gioco sta diventando una fottura DROGA Aiuto Che cazzo fai? Mi vuoi guardare così? Brutto stronzo Ma no Ma no Perché? Perché sono morto così? Perché? Ah Liscio Incredibile Si Ok Si Qua sono facili Spariscono Voglio battere uno di questi grossi Ancora Ancora Sto incominciando Ah Ad abituarmi Ok 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 No Che Ok 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 palavras Ok, così ci dovrebbe essere più qualità, così e così. Oh cazzo, chi è? Oddio! Aiuto! Yuuu! Yuuu! Sì, muori stronzo di merda! Oh cazzo, quanti c'è male! Questa ha gli occhi rossi, si appena fumano un cannone! Ma no, l'avevo beccato nel collo! Ok, scorreggia! Scorreggia verde! Zaa! Zaa! Olè! Scorreggia rossa! Ancora non ho capito bene che diavolo servono! Aiuto! No! Guarda i capelli! Ah, non sono ancora morto! Ah, aiuto! Ok, ora sono morto! Questo è lo senso, questo! Aiuto! Oh, peccato! Era dietro al muro! Ma... La fisica in questo gioco è qualcosa di... Surreale! Quello, 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 quello con il pizza che ho messo sul cavolo! Non lo posso vedere, guarda quanto è brutto! Tu, peri, dai! Aiuto! Sì! La stacchiva, la stacchiva! Come ne arrivo? Che ti la faccio da birra, Gianno? Sì, la stacchiva, 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 la st ho accecato muori bastardo come mi metti sotto le coste mi bevare che lo colpisca e non muore aiuto a mi girare non ci credo comunque ragazzi finisco qui il gameplay spero che vi sia piaciuto dura poco lo so se vi piace lo continuerò fatemi sapere ciao a tutti ragazzi e al prossimo video da Eren e il gigante che farà una brutta fine è tutto che faceva una brutta fine ciao a tutti ragazzi sto qui nel fumo